Una sera di maio, possiamo fare due domande prima di entrare? Allora se una domanda è una sulle parlamentarie del Movimento 5 Stelle ci sono un po' di tensione alla base. Stiamo facendo una cosa che non è uguale in Italia e anche nel mondo. Stiamo selezionando le nostre liste attraverso le votazioni dei nostri iscritti. Cioè la regge elettorale ha eliminato le preferenze ancora una volta e ha creato liste bloccate. Queste liste bloccate noi le decidiamo insieme ai nostri iscritti. Gli altri partiti le decidono nelle segreterie di partito. Allora invece di criticare noi e invece di fare notizia in maniera negativa, questa dovrebbe essere una buona notizia, agli italiani non daremo delle liste bloccate ma delle liste partecipate con persone che si sono messe in gioco e anche in questa regione c'è una persona che è il comandante del Falco che ha deciso di farsi addirittura ai parlamentari. Ci sono tanti volti nuovi che si stanno avvicinando e queste persone contribuiscono a far crescere il movimento e a raccontare all'Italia che questo è un movimento aperto che coinvolge le migliori energie del nostro paese. Gli iscritti che si lamentano che cosa dice? Grazie.